Si gioca il tuo eh? Eh, è giallo si gioca il 2 Eh, è giallo la ferita eh? Oh! Noi, è giallo la ferita Noi, è giallo la ferita Noi, è giallo la ferita Allora, io lascio primo E' la cosa parla Ah, è giallo la ferita Ma è giallo la ferita L'hai giallo E' giallo la ferita Quattro... Occe... Vai spittare... Poi soglia da... Quadrato corso... Exfer... Pensa che vanno se... ...e... 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 grande ma poi si vede di finish certo sei punti allora che faccio? scelatore gomme scelatore oppure prendere già in sospensione o item ah no i punti sono sei e il danno è dodici ah è l'altro tasto in grecia all'interno a o e um Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Volevo frenare, mannaggia. E non è passato attraverso? Che coglione. No, non ci voleva. Che peccato. Stanno andando così per me. No, non è passato. No, non è passato. No, non è passato. No, non è passato. No, non è passato, non è passato. No, non è passato, non è passato.